Si è conclusa sulle scalinate del Teatro Massimo la seconda edizione della Notte Bianca della Scuola, serata di chiusura dell'iniziativa Palermo apre le porte. Per l'occasione gli studenti e il distruttore tecnico Marco Polo hanno messo in scena uno spettacolo ispirato ai cartoni animati della Disney e ai Miserabili. La seconda edizione della Notte Bianca della Scuola, anche l'anno scorso abbiamo partecipato con Pillole di Musico. Quest'anno vedrete uno spettacolo meraviglioso il cui titolo è Polvere di Stelle che abbiamo come sottotitolo dato dalla fantasia al musical perché in questo spettacolo vedrete cose particolari che ci riportano ai cartoni animati, alle favole e poi andremo su pezzi di lirica tratti da alcuni musical. È un finale molto interessante perché abbiamo preso proprio un frammento dei Miserabili di Vittorio. Per un'ora le bambine presenti sono state attratte alle principesse Disney che hanno ballato e cantato i brani più famosi dei cartoni animati. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.